Passi in avanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti per mitigare la crisi idrica nell'Agrigentino. Sarà AICA il soggetto attuatore delle opere prioritarie che dovranno essere realizzate con i fondi messi a disposizione dal Governo nazionale. Tra queste una nuova sorgente a Cammarata per un importo di 167 mila euro, la realizzazione di un nuovo pozzo a Grattavoli per circa 600 mila euro, la riattivazione di un altro pozzo sempre a Grattavoli che era guasto che costerà 400 mila euro con la nuova condotta di collegamento, la riattivazione di due pozzi comunali in prossimità della condotta a Favara di Burgio incontrata a Castello a Ribera per 80 mila euro, la riattivazione di tre pozzi comunali a San Giovanni Gemini per altri 80 mila euro e un nuovo pozzo in territorio di Castronuovo di Sicilia per 435 mila euro. I finanziari di Licata hanno sequestrato 5 mila ricci di mare che erano stati pescati da un sub catanese nelle acque del porto del comune agrigentino in violazione del periodo di fermo biologico previsto nei mesi di maggio e giugno. Il sub aveva un'imbarcazione da di porto e stava utilizzando attrezzatura subacquea. I ricci di mare, dopo il parere favorevole espresso dal servizio veterinario dell'ASP, sono stati rigettati in mare. L'uomo è stato denunciato e multato. 42 dei 147 comuni commissariati per mancata approvazione del bilancio di previsione sono nelle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna. Sulla decisione assunta dalla regione siciliana intervengono la segretaria generale della CISL Carmela Petrelia e Salvatore Parello, segretario generale della CISL Funzione Pubblica delle tre province. Non è certo una buona notizia per i nostri territori, dicono, perché lo strumento di programmazione finanziario permette ai comuni di definire le attività e di predisporre i servizi di offrire nel triennio ai propri cittadini. Siamo molto preoccupati, proseguono Petrelia e Parello, perché questo commissariamento va ad aggiungersi a quegli altri 68 comuni delle tre province che sono in predissesto o in dissesto finanziario con tutto ciò che ne consegue. Dovranno essere presentate entro il prossimo 15 agosto le domande per il servizio di autonomia e comunicazione per gli alunni delle scuole dell'obbligo con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Le famiglie interessate possono inoltrare domande utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca scegliendo tra gli enti accreditati a svolgere il servizio. Oltre al modulo di domanda sono pubblicate le carte dei servizi delle associazioni e cooperative che si occuperanno delle attività.